Ed è una vita che sogno di concedermi una settimana in una beauty farm. A 25 anni mi hanno detto che era inutile. A 30 ero troppo occupata da mio figlio. Ora che ho 40 anni, credo proprio di essermela meritata. Qualunque sia il tuo progetto, se lo puoi realizzare subito è meglio. Per questo c'è Prestintesa. Il prestito che ti concede fino a 75.000 euro in solo 48 ore. Banca Intesa. Se è meglio per te, è meglio per noi. Chiedi fogli informativi in filiale. Erogazione soggetta ad approvazione della banca. Grazie.